C'è soddisfazione nel Governo della Regione Sicilia per i circa 17.500 mandati di pagamento contabilizzati dalla Ragioneria della Regione nel solo mese di dicembre 2022. È stato l'assessore all'economia Marco Falcone a rendere pubblico il dato. Malgrado le ristrettezze in termini di personale e la necessità di aggiornare alcuni processi organizzativi, afferma l'assessore, la chiusura contabile dell'anno scorso ha fatto registrare una buona performance dei nostri uffici, facendo sì che la Regione onorasse i propri impegni. Anche il Presidente della Regione Renato Schifani ha espresso soddisfazione. La certezza dei pagamenti della Regione nei tempi indicati dai contratti è fondamentale per sostenere il tessuto produttivo dell'isola, anche perché i ritardi hanno conseguenze importanti su migliaia di operai e impiegati. Il mio Governo ha affrontato la questione in modo celere e continueremo a lavorare per rendere sempre più efficiente il sistema. Per quanto riguarda le operazioni contabilizzate dagli uffici, soltanto meno del 6% del totale non ha potuto concludersi. Il primo gruppo di mandati è già stato riprotetto con appositi decreti di liquidazione e verrà ripagato dal 18 gennaio in poi. Per gli altri, continua Falcone, si procederà con la liquidazione una volta effettuate le necessarie correzioni e comunque entro febbraio. La percentuale di mandati non ultimati, di per sé molto bassa, conclude l'assessore all'economia, sarà ulteriormente ridotta negli anni a venire.